Grazie Usa anche i saltati Vai Franci La tua tecnica Franci saltati Così Franci Stop Dai Franci Dai che vai bene Porcia a distanza ai studi Esplosivo Franci Porcia Stop Esplosivo quando chiudi la distanza Franci Vai 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 Dai di braccio Franci Così Franci Vai 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 Dai che va bene Franci Grazie.